Diamo il benvenuto, senza aspettare ulteriori lungaggini, a Emanuel Casto. Ciao Emanuel. Buonasera, ciao Dario. Grazie mille per avermi invitato in casa tua. Grazie a te, grazie a te. Come ti ho scritto, ammiro veramente il lavoro, quello che hai costruito in questo periodo, quindi grazie mille. Sentite sullo sfondo i miei gatti che ci molesteranno durante l'intervista e un saluto ovviamente a tutte le persone in ascolto, sono tantissime, che meraviglia, grazie. Sei un gattaro, Emanuel? Assolutamente, assolutamente sì, single si nasce, gattari si diventa. Sono d'accordo, c'era anche una bellissima frase che ho letto in un libricino che regalarono a mia madre, quando io vivevo ancora con mia madre, che diceva i cani mangiano, i gatti pranzano, che mi è rimasta impressa come frase, quindi sono sempre... Ma che meraviglia! Sì, sì, sì. Mi dispiace perché bullizza un po' il cane questa frase, però io sono sempre stato gattaro, che ci posso fare? Cioè, body shaming, potranno dire. Sì, body shaming totale nei confronti dei cani. Dog shaming! Sì, dog shaming. Allora, Emanuel, io sono rimasto colpitissimo quando mi hai scritto quel messaggio privato su Twitch, perché non me l'aspettavo ovviamente, perché... Nonostante su Twitch siamo un po' tutti uguali dal mio punto di vista, perché tutti ci facciamo compagnia e facciamo compagnia, quindi... Poi il rapporto che c'è tra pubblico e VIP secondo me è un po' andato a scemare, però devo dire che ascoltandoti da ragazzo, ascoltandoti anche in età adulta, soprattutto seguendo quello che hai fatto, anche fuori dall'ambito musicale, e sono rimasto colpito perché ho detto, cazzo, lo devo chiamare subito, devo per forza farci una chiacchierata. Quindi è stato grazie avermi contattato, perché grazie a quel messaggio siamo qui adesso a chiacchierare. Grazie mille. Allora, leggendo un po' la tua bio, ma anche leggendo più che altro le interviste che ti fanno, si va ad approfondire sempre la musica, le influenze musicali, e va benissimo anche le tematiche ovviamente che affronti ironicamente con le tue canzoni. Però a me interessa sempre molto l'infanzia, sull'infanzia ci sono pochi cenni storici, perché per diventare così devi avere avuto delle esperienze comunque che ti hanno formato, ti hanno scolpito. Volevo capire com'è stata la tua infanzia, come l'hai vissuta? Raramente mi è stata fatta una domanda così personale, un'altra che me l'ha fatta è stata... Se non vai rispondi, se non vai rispondi... Ah, dare abbinarti. No, ti rispondo, però sono proprio colpito dalla domanda molto molto diretta. Non particolarmente felice, perché ero sicuramente un bambino particolare, con dei tratti neurotipici, sostanzialmente nel mio mondo. Nel mio mondo è un'espressione che ho coniato sin da piccolo, tant'è che non ricordo quando l'ho coniata, che però ho usato poi per tutta la mia infanzia e adolescenza, era giocare a pensare. Quando mi chiedevano che cosa stai facendo, io sto giocando a pensare. Puoi immaginare anche le interazioni con gli altri bambini, nel dire cosa facciamo, io giochiamo a pensare. Come si gioca? La pensi? Ovviamente immaginando anche cose da bambino, cose legate ai commenti che guardavo, però semplicemente immaginavo nel mio mondo. E fin qua verrebbe da dire che non c'è niente di male, però io sono nato all'inizio degli anni Ottanta. Curista, posso chiederti quanti anni hai? Trenta. Ok, ok, quindi abbiamo sette anni di differenza. Io sono nato all'inizio degli anni Ottanta in un paesino in provincia di Bergamo, che però posso dire che culturalmente non era neanche gli anni Ottanta, erano gli anni Settanta. Quindi non c'erano assolutamente quella cultura pedagogica, didattica, che adesso invece sta diventando così importante. All'epoca c'era un'altra cultura, che era considerata quella sana, che era se tu sei diverso, io ti faccio diventare normale, abbastonate, per il tuo bene. Quindi il genitore che ti amava, non parliamo di genitori mostruosi, denaturati, ma per il tuo bene io ti bastono finché smetti di essere diverso, altrimenti soffrirai. Però questo ovviamente ha avuto un impatto molto negativo per me, crescendo con l'idea che come io ero non andava bene. E questo prima che si manifestasse l'orientamento sessuale, che avviene, come nel caso di tutte le persone, pur essendoci avvisaglie, qualsiasi sia omosessuale ti può dire che sin da bambino ricorda degli sprazzi. Del resto non è che la sessualità sia un interruttore, che un giorno si accende, oh mio Dio, oggi era libido, ieri non ce l'avevo. È una crescita progressiva, no? Però è con l'adolescenza, la preadolescenza, che invece si sviluppa l'orientamento sessuale. Ma è stato un po' piovere sul bagnato, tant'è che anche nel rapporto con i miei genitori, sebbene anche quello sia stato un coming out, con le sue criticità, è venuto fin troppo presto, in realtà è stato appunto un piovere un po' sul bagnato. I problemi di accettazione erano più legati al mio modo di essere, per risponderti sinteticamente. Quindi era un bambino molto, molto introverso, molto nel suo mondo, che di per sé non sarebbe stato neanche infelice, ma che diventava infelice, perché gli altri gli dicevano che non andava bene così com'era. Ok, visto che io ti ho sempre visto come una figura mega ironica, anche autoironica, hai sempre anche scherzato non solo sul tuo orientamento sessuale, ma anche sul mondo LGBTQ, che comunque ha motivo di... cioè, come tutte le cose, bisogna scherzarci, farci battute, eccetera, perché nessuno è intoccabile. Eccolo lì, c'è anche la mia da qualche parte, che gironzo. Qual è stata la molla che ti ha fatto trasformare da bambino che soffriva per le sue esperienze a una persona invece che se ne batte i coglioni e ride, scherza, e fa molta autoironia? Cioè, qual è stata la molla? Bella domanda, ti direi un misto di propensione naturale, perché comunque ho sempre avuto uno spiccato senso dell'umorismo, anche molto adulto e anche molto cupo, sin da bambino, cosa che sicuramente era poco digeribile per i coetanei e anche per gli insegnanti, che più volte hanno contattato i miei genitori dicendo fa delle battute, un po' truci. E no, per me è stato... l'autoironia è sempre stato un percorso fondamentale. Io sono stato probabilmente il primo adolescente out, come diremmo adesso in questo liceo statale di Bergamo, con gli insegnanti, con i genitori, ma ci facevo proprio anche ironia molto, molto pesante, anche con termini, che su Twitch assolutamente non potremmo dire. Quindi una questione di propensione naturale, per cui essere sostanzialmente grato, per il fatto di essere nato così, e un'altra di persone giuste incontrate al momento giusto. In particolare un insegnante d'italiano, che ho avuto insegnanti orrendi come tutti noi, e in un'epoca in cui non c'era il concetto del... l'insegnante si comporta in maniera ingiusta, meno il lamento con i genitori. No, all'epoca se l'insegnante ti sgridava, te l'erai meritato, e quindi non lo riportavi ai genitori, perché avrebbero rincarato la dose. Ed era anche una scuola, proprio una scuola di vita a tutti gli effetti. Tu a 14 anni apprendevi che nel mondo esistono gli stronzi, e dovevi farci i conti. Però ho avuto anche insegnanti meravigliose, e questo insegnante d'italiano, perché io ti sto facendo un quadro piuttosto ricco, me ne rendo conto, e ho anche dei DSA, un DSA in portanti termini di dislessia, e mi vergognavo a leggere ad alta voce. Ora, io non posso dire la parola su Twitch, ma è una parola che inizia con C e finisce con un lattone. Avete capito la parola, no? Grazie. Ok. Io a 15 anni mi ritrovo con l'insegnante d'italiano, che mi dice, lei sapeva di queste mie difficoltà, ma mi spronava comunque a lavorare sul mio eloquio, a lavorare con il pubblico, perché pensava che io avessi talento da questo punto di vista, sebbene frenato da queste difficoltà congenite. Lei mi dice, Emanuele legge ad alta voce. E gli dice, no, mi vergogno. Lei si gira e fa. Un quindicenne che ha Bergamo, non si vergogna a dire che è un C puntino, non si può vergognare a leggere ad alta voce. E viene proprio questa roba. Sì, sì, ma era... Allora, capisco che faccio al giro, ma detto da lei, per la stima che avevo, non era offensivo. Detto da lei, per fare un esempio che penso che molti nerd possano cogliere, la prima puntata di Game of Thrones, quando Tyrion dice a Jon Snow, no, tu sei un bastardo, come io sono un nano, non dimenticartelo, gli altri non se lo dimenticheranno, usalo come armatura. È proprio il messaggio che mi ha dato lei, ora verrebbe licenziata, ovviamente, un insegnante, una roba da fare. Però all'epoca a me ha dato proprio un profondo senso di autoaccettazione e di non vergognarmi proprio di quello che ero. Poi anche una serie di situazioni spiacevoli accumulate nell'infanzia, nell'adolescenza, fa sì che arrivo poi con questa vena artistica prorompente e con la voglia, con la voglia di provocare, con la voglia di sbattere in faccia quelle caratteristiche che mi avevano detto che erano fastidiose, che non andavano bene. E questo è stato per lungo tempo il driver psicologico alla base della mia scrittura artistica. Adesso è cambiato, ti interessa, ti dico in che momento sono, e man mano sono più evoluto verso la satira sociale, satira di costume, mettiamola così. Ma all'inizio era un'operazione artistica molto irriverente, io ero un troll antelitteram quando ancora non c'era la parola. Cioè quell'effetto del tipo, oh mio Dio, ma questo sta dicendo veramente questa cosa? Io ho delle canzoni come Analbit che io non so se si possono dire queste parole su Twitch. Mi ricordo che il testo era bello diretto, non gliene fregava proprio un cazzo Analbit. A un certo punto c'è il bridge in cui esorta sostanzialmente ad avere rapporti sessuali non consensuali per intenderci. Era un'operazione artistica dadaista, io volevo quell'effetto del tipo, oh mio Dio, ma la canzone è confezionata molto bene in termini di produzione, il video è bello e che cosa sta dicendo questo? Era un'operazione di rottura che poi non ha avuto senso continuare a portare avanti negli anni perché una volta fatta è stata fatta. Però al, sì, la tua domanda era che cosa ti ha portato a voler mettere in scena questa operazione di rottura? Eh sì, un innato senso dell'umorismo molto scuro e voglia di rivalse. Ok, avevi voglia di far ridere, avevi voglia di di vendicarti sul tuo passato un po' un po' così, un po' oscuro, vabbè giusto, ci sta. Ecco infatti ti volevo fare come prossima domanda proprio questa, se c'era qualcuno che nella tua vita, nella tua infanzia avesse notato questa tua, questa tua, questo tuo estro artistico ma mi hai già risposto perché con questa tua maestra, questa tua professoressa effettivamente aveva notato che eri, che eri particolare, che eri diverso rispetto agli altri, più un artista, ecco. Certo, certo, sempre questo insegnante diceva di me, lei aveva un problema di balbuzi, metteva sempre all'inizio delle frasi un fonema, una che, 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 che si incespicava, pur essendo in realtà un'ottima, una straordinaria oratrice e lei era solita dirmi che tu Manuel ce l'hai, che tu ce l'hai, riferendosi all'estero, al talento, ricordo di aver chiesto alla mia compagna di banco ma perché dice sempre che, e lei, non lo so, ma almeno tu ce l'hai, perché non era neanche carino poi nei confronti degli altri compagni di classe. No, per niente, bene, meno male ci ha visto lungo, ecco, almeno c'era questa figura positiva per te. Io, la scorsa settimana, o due settimane fa, già ho dimenticato, ho intervistato Rocco Tanica che ha fatto del rock demenziale insomma, la sua bandiera, tutti gli Eli hanno sempre fatto musica però infarcendo i loro testi da battute, scenette, insomma, provocazioni varie. Quindi, più che le influenze musicali ti farei la stessa domanda, ovvero, quali sono state le tue influenze comiche, cioè, i tuoi comici preferiti o le persone che ti hanno più influenzato a livello proprio caratteriale, ironico, satirico? Ma, che bella domanda, io non so se sia casuale il riferimento a Rocco Tanica, ma per me lui è stata una figura chiave, non credo sussisterebbe Emanuele Casto se non fossero esistite Elio e le storie tese, comunque, per me sono stati un riferimento importantissimo. Fra l'altro, Rocco Tanica si è offerto lui e io veramente gli ho baciato i piedi di partecipare al mio concerto a Torino, uno degli ultimi che ho potuto fare prima ovviamente della situazione in cui ci troviamo e ha intonato con me, no ha intonato, mi ha accompagnato al piano sulle note di Che Bella è la Cappella e un'altra canzone di cui qui non posso pronunciare il titolo che è Da Grande Sarai F asterisco in una versione veramente molto, molto bella, ma è stata una delle performance che più ho amato di tutto il mio percorso artistico e lui, che dire, a livello autoriale ha veramente una potenza e un'originalità rare. In generale, sì, Elio e Sorietese con la loro demenzialità unita alla buona musica mi hanno profondamente formato. A livello di comicità, sebbene promiscua con la musica non era del tutto questa la tua domanda, negli anni 70 c'erano tanti riferimenti. Si pensi al primo Renato Zero, se pensi a Ivan Cattaneo, a una Giun Squillo che credo al Festival Bar canta Violentami Violentami sul metro, a Donatella Rettore che in prima serata ti canta dammi una lametta che mi taglio le vene. Io da adolescente e queste cose erano già vecchie, perché queste erano robe anni 80, io queste cose le ho riscoperte alla fine degli anni 90 sostanzialmente. Lì si è aperto un mondo e dice ma io devo fare queste cose, devo fare queste cose, cose che adesso appunto non troveremmo. A livello poi di comicità, fammi pensare a dei riferimenti. Cosa estremamente gaia, con l'avvento di internet, ho scoperto una comica che da noi in realtà tuttora poco ha una nota che è John Rivers. Ok. Il suo tipo di umorismo mi ha mi ha fatto innamorare. Da ragazzino, sempre dato che questo è il tema, consumavo i libri di Giobbe Covatta quando ero cazzo, quando ero alle medie, proprio alle medie. È vero, li leggevo anch'io ed è, non viene mai citato da nessuno e per me è veramente un grande. A proposito di infanzia ma anche di crescita e di provocazioni, ti hai fatto appunto una canzone che si chiama Che bella la cappella dove per tutta la canzone fai dei giochi di parole dove ogni cosa legata alla Chiesa Cattolica viene comunque collegata a una pratica sessuale, a un organo sessuale, eccetera, eccetera. Ora, qual è il tuo rapporto, non ti chiedo, con la Chiesa Cattolica, cioè con l'istituzione, Chiesa Cattolica, ma qual è il tuo rapporto con la fede, se ce n'è uno ovviamente? Dario, perdonami se mi sbilancio già, ma mi stai facendo tra le domande più interessanti che mi abbiano fatto, considerando anche tutto il giornalismo. Te lo dico, ci mancherebbe, sono curiosità mie più che altro. Ma, per me era un complemento a te, era un offeso al giornalismo. No, ok, ok. Allora, no, no, allora, il mio rapporto con la fede è molto evoluto nel senso che io ho compiuto questo percorso. Cresco, vengo educato come un cattolico di inerzia, come le definisco io, come lo erano i miei genitori, senza una vera fede, senza un vero investimento, ma è un rito sociale, lo fanno tutti, quindi fallo anche tu, ho fatto tutti i sacramenti, cresimato, quel che si vuole. Ho poi scoperto nel, durante l'adolescenza, il concetto di ateismo e per me è stata una profonda liberazione, facendo un percorso intellettuale che i miei compagni di classe non facevano, bizzarramente io ero l'unico oltre ad una ragazza molto cattolica a fare l'ora di religione, gli altri non lo facevano perché si poteva saltare, a me interessava l'argomento per formarmi in realtà un'opinione e avendo anche qui sostanzialmente subito per anni fondanti della mia identità come l'infanzia e la mia adolescenza un'ideologia che pretendeva di stabilire quale fosse il modo giusto di essere, quella appunto religiosa, politica e quale invece andasse soppresso aveva anche qui un profondo astio e quindi l'ateismo per me è stato un percorso proprio di liberazione con anche un enorme componente di rabbia che arriva tutto in un brano come Che bello la cappella che è un brano che ti dice è la vostra sensibilità religiosa ma io la uso come spazzettone del cesso cioè un brano molto aggressivo volutamente offensivo che strumentalizza gli scandali nell'ambito ecclesiastico legati alla pedofilia per fare una generalizzazione è un'operazione artistica proprio violenta che non rinego è stato un passaggio fondamentale è stato uno dei primi brani peraltro che mi hanno reso popolare però appunto riconosco come operazione molto forte con il tempo la mia posizione è cambiata presto tuttora un ateo agnostico e attenzione le due cose possono andare insieme perché l'ateo non crede l'agnostico non sa ci sono anche gli atei gnostici dicono io so che Dio non esiste non so bene come facciano io dico in assenza di prove io non credo se arrivano prove cambierò idea ma in assenza di prove trovo ragionevole la posizione più ragionevole appunto quella di non credere sostanzialmente progressivamente questa rabbia è anche andata un po' sfumando anche conoscendo persone invece che nell'ambito cattolico sono cresciute e nell'ambito cattolico hanno trovato una famiglia persone molto importanti e per loro la fede è stata una guida verso la versione migliore di loro stessi e mi sono reso conto che in realtà le mie generalizzazioni fossero a loro volta ingiuste va anche detto che io credo che sia cambiato profondamente il peso della chiesa cattolica in realtà scusami non era questa la domanda chiudo non è interessante vai avanti mi interessa molto ok io credo che abbiamo ancora quest'idea della chiesa cattolica come una forza politica pesantissima in Italia io non sono ancora del tutto certo che sia così è vero che hanno ancora delle aderenze enormi enormi tuttavia la percentuale di cattolici non viene frequentanti non è il termine praticanti dove praticanti che vanno effettivamente a messa la domenica tutte le domeniche è stimata sotto al 10% cioè non mi sembra questa potenza sicuramente c'è una maggioranza di cattolici di inerzia come li ho definiti io ma di cattolici anche colti proprio in riferimento alla dottrina che cosa sia il cattolicesimo le scritture la liturgia e che veramente vivono in funzione di questi precetti anziché adottare solo i pezzi che piacciono a loro sono effettivamente una minoranza che adesso sta iniziando a farmi simpatia francamente infatti ho anche smesso nella mia linea pubblica di essere così critico nei confronti delle minoranze delle minoranze delle comunità religiose penso che esista e meritano anche loro di avere voce essendo appunto una comunità che esiste semplicemente io traccio una linea che è molto precisa che non mi può imporre o vietare nulla sulla base delle tue credenze religiose ma prima di questa linea invece è il mio rispetto in base alla persona non posso dire che darò anche la mia stima ma nemmeno le persone ne hanno bisogno ma il mio rispetto sì perfetto penso che tu abbia risposto ampiamente in maniera puntualissima sono praticamente al 100% d'accordo con te quindi ottimo grazie a aver riassunto il mio pensiero in maniera così perfetta precisa con questa dialettica pazzesca che ti contraddistingue allora io sono convinto che tu sappia che con le tue canzoni tu sia riuscito a influenzare molti ragazzi che avevano paura di fare coming out di rivelarsi ai propri genitori ai propri amici eccetera penso che tu questo lo sappia insomma tu sia conscio di questo ok ti sei mai alzato un giorno e hai avuto paura di questo tuo potere perché sì ok sono solo canzonette come direbbe qualcuno però queste canzoni effettivamente influenzano delle persone e grazie anche all'ironia si sentono più legittimate a dire ad esprimere la propria sessualità però a un certo punto quelle canzoni hanno un'origine sono state fatte da una persona quella persona sei te che cosa hai provato c'è stato un momento in cui hai detto cazzo però aspetta le persone ascoltano i miei dischi e magari poi vanno a casa e dicono sai cosa ora lo dico lo faccio e come ti sei sentito quando te ne sei accorto confermo che è un'intuizione corretta la tua ma la mia invece non è un'intuizione lo so per certo perché mi è stato verbalizzato scritto più e più volte da parte di ragazzi ragazze e genitori addirittura che mi ringraziano per il modo in cui attraverso l'ironia ho aiutato i ragazzi ad accettarsi cosa che mi fa moltissimo piacere ed è proprio questo il punto il riferimento alla diciamo responsabilità derivante l'opera artistica no devo dire che non ho mai sperimentato paura ma solo profondissima gratitudine una delle emozioni più belle che ho sperimentato in vita mia di quelle che le poche volte in cui in vita mia ho temuto che sarei morto per un po' ragione o per l'altra ho proprio pensato ok se morissi ora però ho sperimentato questa emozione di questo devo essere grato di essere in location tipo la Alcatraz di Milano insomma music club con un buon volume e di essere dietro le quinte e sentire il pubblico che ha voglia di iniziare lo spettacolo con l'energia che chi ama tu e magari sono tipo 1500 persone tu sai che si stanno per divertire stanno per celebrare qualcosa qualcosa che per loro è bello divertente senti quell'energia e pensi cavolo questa cosa però è partita da un'idea che ho avuto nella mia cameretta in maniera non dissimile in realtà da quello che magari puoi sperimentare tu avendo costruito quello che hai costruito qui su Twitch è proprio un privilegio è una sensazione bellissima un privilegio che si suda quotidianamente però quello è proprio bello no paura devo dire che lì non l'ho avuta se ti interessa magari dopo perché secondo me hai già delle domande mi puoi chiedere quando ho avuto paura in riferimento alle responsabilità però magari dimmelo pure se tanto viene fuori ora parliamo neppure adesso non è un problema va bene allora io sono presidente di un'associazione non so se conosci che è il Mesa Italia esattamente brevemente a beneficio di chi ascolta che non sa che cosa sia il Mesa Italia è un club un'associazione internazionale senza scopo di lucro fondata ad Oxford negli anni 40 in Italia negli anni 80 di cui possono essere soci coloro che raggiungono o superano il 98% del cui ossia coloro che hanno un rientrano nel 2% della popolazione col più elevato quotiente intellettivo misurato con un test di intelligenza logico spaziale standardizzato gli obiettivi statutari lo dico perché la prima domanda è ok ma che cosa serve fare sta roba gli obiettivi statutari sono creare una comunità mettere in contatto persone con questa caratteristica che magari anche a causa di questa caratteristica possono patire o aver patito un certo senso di isolamento studiare la natura dell'intelligenza in concreto con le nostre quote associative finanziamo pro bono progetti di ricerca in ambito accademico e spronare a utilizzarla un po' questa intelligenza a proposito molto ampio ogni direttivo lo interpreta a modo suo noi lo facciamo con progetti di divulgazione conferenze e via dicendo e sono presidente dalla fine del 2019 e in realtà sono socio da 12 anni e ricordo quando mi sono reso conto che molti mi avrebbero voluto come presidente che questa era una possibilità il profondo senso di peso il dire ma io mi merito questa cosa sarò all'altezza di queste aspettative che sento e lì ricordo di aver avuto profondamente profondamente paura essendo poi un impegno consigliare che ho preso molto sul serio e tuttora in realtà è anche fonte di grande stress perché è un'associazione piuttosto grossa e lì in effetti devo avere avuto paura derivante da quel senso di responsabilità e poi cosa ti ha portato ad accettare? la consapevolezza di poter fare effettivamente qualcosa di buono ma in generale hai avuto coraggio e via ti sei buttato dopo averci riflettuto molto molto bene sapendo che avrà avuto un impatto sulle mie attività lavorative nei prossimi anni l'ho fatto buono secondo me è una bella cosa io mi sono informato un po' anche per poter chiacchierare con te questa cosa effettivamente non la sapevo però preparandomi un po' e mi sono andato a informare trasversalmente anche su questa associazione è interessante non la conoscevo e quindi mi ha fatto piacere scoprire questa cosa nuova tramite te ecco sempre a proposito di coming out questa è una domanda che probabilmente in realtà te hanno già fatto in tanti però voglio arrivare allo step successivo di questa domanda allora come si fa a trovare il coraggio per fare coming out qual è il consiglio che daresti a dei giovani che ancora non ce la fanno hanno paura della propria famiglia dei propri amici del proprio mondo c'è veramente molto molto da dire innanzitutto specifico che il coming out non è un dovere non è raro che persone appartenenti alla comunità lgbtqia plus che mi sgridano quando perdi una lettera non è raro che una persona appartenente a questa comunità o persone appartenenti a questa comunità rimproverino a personaggi di cui si può presumere nella misura in cui si può presumere l'orientamento sessuale non facciano coming out vengono accusati di viltà il fatto sta che il coming out non è un dovere potrei spingermi a dire che è un dovere verso se stessi per permettersi di vivere una vita più piena e dopo spiego perché ma resta il fatto che va fatto con i propri tempi guarda mi permetto quasi un parallelismo molto rischioso con il velo islamico io dal mio punto di vista posso pensare che sia un simbolo di espressione e che se quelle donne che dicono di volerlo portare di loro spontanea volontà se ne liberassero di quel che simbolizza simboleggia vivrebbero meglio questa è la mia opinione da esterno detto questo non vieterei loro di portarlo nei limiti della legge questo è un esempio secondo me che può reggere io penso generalmente che un omosessuale bisessuale che sono anche più bistrattati degli omosessuali possano vivere più pienamente manifestando il loro affetto nei confronti del partner girando per mano vivendo a 360 gradi la loro affettività ma non è che potrei mai imporre a una persona di farlo se non se la sente e perché appunto è così importante questo coming out io credo che nel caso di una persona eterosessuale non realizzi appieno quanto la sessualità e l'affettività pernino le nostre vite anche al di fuori dei campi dell'affettività e della sessualità soprattutto dovendo mentire per una persona eterosessuale è molto normale rispondere a un collega cosa hai fatto ieri non so ho mangiato una pizza con la mia ragazza dopo aver visto un film ecco immaginiamo di dover mentire su ogni cosa di dover correggere il posto di ragazza amico e la cosa ha ricaduta oppure ti fanno ma comunque anche con quelle dinamiche di gruppo in cui ti si chiede un commento su una persona una foto di una modella roba del genere e tu non puoi partecipare a parte che esercitarsi alla menzogna quotidianamente secondo me non è sano ma poi mette un filtro di profonda distanza con le persone che è vicino che siano i colleghi che siano gli amici che siano i familiari poi ogni caso è a sé stante c'è molta difformità anche geomografica io ho persone vicine che in totale buona fede dicono sì ma ci sono ancora problemi voglio dire gli omosessuali sono pienamente accettati poi di nuovo mi dimentico sempre delle persone transgender bisessuali che sono molto più cancellate culturalmente però essendo io omosessuale penso solo a me stesso comunque non è raro che persone dicano ma non è vero che c'è ancora uno stigma ma guardali ormai sono in tutte le produzione di Netflix che è vero effettivamente ormai sono da perduto che cosa c'è ancora da vergognarsi dipende dall'ambito dipende dall'ambito in una città come Bologna ti posso dire sì effettivamente io sono d'accordo ma se ci spostiamo in piccoli comuni magari dall'estremo nord o dall'estremo sud ci sono interi settori lavorativi in cui una persona può avere grossi problemi problemi all'interno della famiglia lì diventa un passaggio molto difficile che a volte presuppone il trasferimento però per dare un consiglio spiccio se questa era la richiesta di contattare se si è soli associazioni associazioni locali nazionali ci sono molti numeri di sostegno persone con cui parlare che ti possono far sentire capito capita darti quel po' di forza necessaria per compiere il passo e aiutarti a capire se ci sono le condizioni per farlo perché si può finire in scenari addirittura violenti se proprio tu ti rendi conto che la famiglia non ti accetterà mai lì il piano deve essere andarsene il prima possibile e costruirsi una propria vita altrove quindi non c'è un consiglio che vada bene per tutti se non quello di ascoltarsi e cercare l'aiuto di persone simili perfetto grazie mille perché secondo me tra tra il mio pubblico c'è qualcuno che ancora vuole fare questo passo ma magari non ha il coraggio per l'ambiente in cui vive perché hai detto che i bisessuali sono più bistratati degli omosessuali sono curioso certamente certamente è molto curioso vengono culturalmente cancellati innanzitutto la bisessuale donna viene cancellata in eterosessuale è una golosetta insomma vabbè a lei piace l'uomo però insomma se ha un amicetta in fianco ma una sforbiciata non ce la fai insomma dai le ragazze sono così sono pazzerelle quindi l'idea che viene data delle bisessuali donne è che in realtà siano eterosessuali un po' birichine giocherelle che sperimentano nel caso invece dei bisessuali maschi vengono annullati in omosessuali ossia no dai quello in realtà è una tappa su gay city sostanzialmente non si accetta vuole trovare un compromesso ma in realtà quello è davvero un omosessuale e invece no esistono i bisessuali e sono visti con pregiudizio sia dagli eterosessuali che dagli omosessuali perché non ci si fida del bisessuale si ha l'idea che deve ancora capire la sua strada è confuso non è né carne né pesce e ancora si ha paura ad esempio che non sia materiale per una relazione stabile perché se io sono uomo o donna e mi relaziono con un bisessuale io avrò paura che a lui manchi qualcosa e quindi cosa fa? lo cerca altrove quando un bisessuale ti spiegherebbe magari a te piacciono sia le more che le bionde se stai con una bionda la bionda deve stare in crisi perché a te mancano le more magari c'hai la fantasia però questo non costituisce necessariamente un problema strutturale può ma dipende dal singolo quindi io credo che effettivamente siano siano bistrattati e di nuovo conosco molte persone che non credono all'esistenza della bisessualità che ti dicono no è una fase oppure sono persone ingorde ma guarda ti cito questa quando mia madre ha elaborato il mio coming out mi ha detto questa cosa che cito sempre perché è indicativa dei tempi era la fine degli anni 90 e mi dice Manuel io mi rendo conto che accetto gli omosessuali quelli che proprio non accetto sono gli eterosessuali cioè sei un po' confusa madre e lei no quello che intendeva a dire era che non accettava i bisessuali che questo ci fa capire che all'epoca non si sapeva neanche cosa volesse dire il termine eterosessuale perché era la normalità sostanzialmente al massimo c'erano delle devianze e che poi lei si poresse il problema di accettare i bisessuali e che la risposta fosse no non li accetto e credo che questo problema permanda tuttora io non ci avevo mai pensato vedi interessante e invece ci sono sempre delle po- ora non più perché siamo tutti chiusi in casa però quando viene fuori il pride ci sono sempre un sacco di cazzi polemiche proteste eccetera eccetera te ti sei anche esibito durante il pride più volte esattamente ecco perché secondo te è necessaria la presenza del pride e perché è importante che esista il pride ha subito una profondissima evoluzione tant'è che ha anche perso il suo famoso suffisso gay ora si chiama semplicemente pride notiamo che a continuare a utilizzare il suffisso gay pride sono sostanzialmente i reazionari che vogliono impedire al pride questa trasformazione il gay pride nasce come questo nome per ricordare al mondo che gli omosessuali esistono e te lo sbatto in faccia in tutti i modi possibili anche in quelli grotteschi provocatori non mi interessa tu devi vederci è stato un passo fondamentale nato con i moti che hanno originato dello stonewall un locale storico di new york del 68 siamo ovviamente nell'epoca della rivoluzione sessuale dove questo quest'atto di protesta anche abbastanza violenta crea una reazione a catena per cui ci si inizia a raccontare anche in maniera forte di rompente di rottura disturbante si porta in scena il gay pride per ricordare alla società che gli omosessuali esistono e si divertono pure non esistono solo come povere figure da martirizzare sostanzialmente e è stato un passo importante e che ancora in alcune comunità in alcuni luoghi del mondo in alcune zone d'italia è importante fare ma il passaggio successivo che stiamo facendo adesso è quello dalla dicotomia omosessuale eterosessuale evoluta poi in comunità lgbtqia plus versus eterosessuale in supremazia versus inclusività supremazia da parte di chiunque è chiaro che per questioni di dinamiche sociali la supremazia è difficile da contrastare è quella della maggioranza ma intellettualmente e idealmente sono tutte sbagliate esistono pensiamo ad esempio alle TERF alle trans exclusive feminists quindi delle frange estremamente radicali del femminismo che sono esclusive loro veicolano un'idea proprio di suprematismo e anche quell'idea è combattuta dal messaggio del pride per intenderci il pride non è più noi versus loro ma è un tutto lo spettro della sessualità merita di essere accettato merita di essere celebrato dall'altra parte non ci sono gli etero dall'altra parte c'è chi dice che un modo di essere è superiore agli altri principalmente saranno reazionari ma come ho detto ci possono anche essere persone invece che non corrispondono con il tanto vituperato uomo bianco eterosessuale che però anche loro veicolano ideologie suprematiste sono minoritarie ma esistono ma esistono anche loro e questo messaggio di inclusività è importantissimo ti faccio un esempio io ho vissuto a San Francisco che è un po' la capitale mondiale forse con tutte le contraddizioni degli Stati Uniti perché da un lato è una città che fa delle politiche inclusive il suo orgoglio e adesso ti faccio un esempio dall'altro hai le persone meno abbiente i malati i tossici che stramazzano per strada ma devi fare lo slalom proprio tra i senza tetto è veramente uno spettacolo brutto dal punto di vista umano ma per il resto se sei ricco però è la capitale dell'accettazione meraviglioso infatti è comunque una città a cui sono molto affezionato ero in un caffè in uno Starbucks e mi approcciano tre ragazzini ma tipo delle medie ora non so come non so esattamente come sia strutturata la scuola comunque ci siamo capiti junior high school quel che è vengono da me e mi fanno ti possiamo fare due domande per una ricerca scolastica ovviamente in inglese dico sì certo mi chiedono qual è per te il significato della bandiera raccobaleno e qual è cosa ne pensi della figura di Harvey Milk sindaco storico figura importantissima per il movimento io ho risposto però mi è proprio colpito che una scuola desse come compito quello di approfondire il significato della bandiera raccobaleno e della figura di Archie Milk roba che qui altro che spauracchio del gender perché per loro l'inclusività e i diritti civili sono fonte di orgoglio civile proprio il Pride è il corrispettivo del nostro Natale dura un mese intero tutta la città si riempie di bandiera raccobaleno e viene festeggiato da famiglie da tutti perché è una celebrazione dell'inclusività è una celebrazione dell'amore verso se stessi per una persona che vive questa diversità respirare quell'atmosfera è commovente io conosco tante persone che al Pride si commuovono perché trovi quell'atmosfera di famiglia che purtroppo tante persone LGBTQIA plus nella loro famiglia non l'hanno trovato quindi sì c'è tanto importante c'è tanto bisogno insomma di continuare a sfilare con il Pride e penso che tutti dovrebbero accogliere questo messaggio si guarda confermo perché io e la mia ragazza andiamo spesso e quando si poteva ripeto e ci siamo trovati sempre bene anche qua nella mia città a Pisa l'ultima volta siamo stati lì è stato bellissimo è stata proprio un'esperienza bella divertente figa molto figa veramente confermo tutto l'ho vissuto in prima persona ecco però allo stesso tempo ecco voglio farti alcune domande su uno dei miei pezzi preferiti che è Da Grande Sarai F che abbiamo già citato ora all'interno di questa canzone c'è molta ironia e te sei anche un maestro come abbiamo detto prima dell'autoironia cosa ne pensi di questo periodo dove non si può più scherzare su un cazzo perché è veramente importante per me questa roba io non ce la faccio più cioè ogni battuto ormai è sottoposta a inquisizioni movimenti internetiani di vario genere associazioni che si incazzano tantissimo cioè te come come la pensi? allora ho un'opinione abbastanza complessa un divaga e ambivalente perché lo ritengo un fenomeno culturale che stiamo assistendo molto complesso e che mal si concilia con il pensiero binario a cui mai siamo abituati ossia o tutti da una parte o tutti dall'altra qui purtroppo temo che sia necessario discernere ogni singolo caso e interrogarsi su ogni singolo caso mi tolgo subito dai piedi diciamo le ragioni per cui comprendo determinate dinamiche che mai poi in concreto possono anche dare fastidio mi spiego parliamo della correttezza politica originariamente per politicamente corretto si intendeva in realtà tuttora si intende quelle linee di pensiero e di espressione che prendono in considerazione la sensibilità di tutti in particolare delle categorie sociali più deboli ma questo è un proposito molto nobile di per sé ovviamente quando però sentiamo lamentarci del politicamente corretto in realtà ci stiamo alimentando dell'imposizione del politicamente corretto e della metodologia di imposizione del politicamente corretto però attenzione perché questa è già una semplificazione perché se diciamo il politicamente corretto è sbagliato per definizione e la definizione è tutelare la sensibilità delle persone più deboli stiamo dicendo che il suo posto è giusto il suo posto la discriminazione l'insulto allora è giusto quindi diremo del giornalista che scrive incolpando la vittima di stupro dato che è politicamente scorretto che è necessariamente buono e invece no non basta essere politicamente scorretti per essere buono l'opposto del politicamente corretto non è la verità non è la libertà di espressione l'opposto del politicamente corretto è l'insulto l'opposto della libertà di espressione è la censura che può essere chiesta per tante ragioni una tra queste che ora è molto ricorrente è il politicamente corretto però qua confido di aver già spiegato il meccanismo altra cosa che riconosco è che spesso quando sento lamentare che non c'è più libertà di espressione noto che in realtà quel che si intende realmente è che non si sta chiedendo libertà di espressione ma si sta chiedendo libertà dalla contestazione io voglio provocare voglio insultare voglio attaccare e gli altri non mi devono rispondere se poi c'è una shitstorm oh poverino no questa non è una non è una pretesa non è una pretesa accettabile e ancora e ancora io non trovo legittima la rivendicazione del creatore di contenuti dell'artista come posso essere io che dice allora io adesso faccio una rappresentazione di un gruppo di persone dopodiché in autonomia decido io se la rappresentazione che ho fatto è offensiva o no gli altri non mi devono contraddire anche questa secondo me non è legittima qual è però il problema che pur capendo tutte queste cose non è sufficiente portare avanti un'istanza giusta nella comunicazione in politica dove la forma è anche contenuto bisogna portarla avanti anche nel modo giusto in un'istanza giusta che pretende di realizzarsi con la metodologia della folla inferocita che armata di forconi e fiaccoli cerca ogni giorno una strega da bruciare diventa indovina in po' una caccia alle streghe quindi anche quelle motivazioni che riconosco poi si perdono nella metodologia si perdono nella voglia di sangue l'esempio che io faccio per spiegare la mia interpretazione se è sbagliata del fenomeno è la rivoluzione francese che per me è uno degli eventi più importanti della storia europea se non il più importante in assoluto di nuovo mio personalissimo giudizio lì ne basta anche una conoscenza sommaria per vedere come una spinta importantissima che ha cambiato il mondo occidentale che ha portato al rovesciamento della monarchia poi sappiamo che in realtà è stato un percorso lunghissimo però quando si è esaurita questa spinta si è ripiegata in se stessa nel periodo del terrore in un certo senso secondo me noi stiamo vivendo un po' un periodo del terrore in cui i rivoluzionari si ghigliottinavano a vicenda per non essere abbastanza rivoluzionari e qui abbiamo progressisti che si linciano a vicenda per non essere abbastanza progressisti perché sia vero tu hai delle belle idee ma hai utilizzato quella parola e allora ti devo ghigliottinare e questa cosa per me è profondamente è profondamente sbagliata oltre alla metodologia ultima cosa poi ti rispondo c'è anche l'ambito d'applicazione mi dispiace ma questo codice morale del politicamente corretto di cui ho già detto che riconosco i meriti non lo si può applicare bovinamente in qualsiasi angolo come una cetta che pac 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 non guardo neanche cosa sto facendo io la calo dipende dal contesto voglio dire se si sta parlando di dibattito politico mi dispiace ma io mi aspetto che la persona si esprima in maniera rispettosa della popolazione a cui si sta indirizzando molto diverso al caso di un'operazione artistica mi dispiace perché quella è finzione io avrei orrore di vivere in un mondo in cui l'arte deve essere morale ma è orribile le persone nella realtà soprattutto se fanno politica devono avere un'etica una loro integrità ma che schifo è se l'arte deve essere morale e ultimissima ultimissima cosa c'è poi ovviamente anche la questione della comicità anche lì anche lì la comicità che cos'è un po' per definizione dire una cosa per intenderne un'altra è l'ironia e l'autoironia torniamo al discorso che ho fatto all'inizio diventa anche uno strumento importantissimo di autoaccettazione non mi puoi togliere la possibilità di utilizzare quella parola che mi ha fatto soffrire per tutta la vita di rivendicarla e utilizzarla per dare un messaggio positivo è una questione di le regole al servizio delle persone non le persone al servizio delle regole la regola è questa parola non si può dire istituiamo la regola per tutelare un principio il principio qual è? tutelare la sensibilità delle persone portare avanti delle stanze positive ok ma qui vediamo dei paradossi di persone che pur di far rispettare la regola ti sacrificano il principio o tutela del quale la regola era stata istituita ok questa è la mia visione sul momento che stiamo passando io ti volevo portare proprio qui perché io volevo parlare proprio di comicità cioè io non capisco perché la gente non riesce a capire la differenza tra una persona un comico che fa una battuta con parole bannabili qua su twitch eccetera eccetera ma è su un palco cazzo non è cioè dare del dell'eff a una persona per strada non è la stessa cosa che dirla pronunciarla su un palco per fare delle battute a proposito di questo Immanuel ti volevo chiedere proprio te sei d'accordo col fatto di fare delle battute sui gay solo se si è gay sui neri solo se si è neri eccetera eccetera oppure un bianco può fare una battuta su un nero e un eterosessuale può fare una battuta su un gay domanda molto complessa qui faccio fatica a darti una risposta univoca io non riesco a darti una risposta non riesco a darti diciamo una regola morale sulla base della quale comportarsi ti potrei dire che per sicurezza è meglio evitare se tu non appartieni a quella categoria è meglio di no però ci sono tutta una serie di licenze come quelle artistiche e purtroppo la regola che applico io non è una regola morale è questa la discriminante per me non è il tema ma la bellezza della battuta cioè se la battuta fa veramente ridere per me sei perdonato io ho detto di quelle robe orribili in vita mia sul palco ma ho fatto di quelle battute di quelle battute ma roba che riportate però il pubblico rideva rideva per il modo in cui la battuta veniva servita per la mia personale sensibilità a offendermi non è il tema delicato ma che tu abbia scomodato un tema delicato per fare una battuta brutta ecco questo mi offende e molti molti come c mediocri si appoggiano a questo perché è dirompente no ovviamente tocchi i temi delicati ci fai una battuta forte e pensi di ottenere quell'effetto wow e però serve però anche un'intelligenza comica sotto per farla però è una possibilità strettamente strettamente personale faccio un po' fatica e poi capisco se per altri invece proprio offende terribilmente lì quello che posso dire io guarda ti vengo incontro e ti metto un disclaimer però basta ma io penso che chi va magari a guardare un Filippo Giardina ti faccio un esempio penso che sappia che va a vedere uno spettacolo comico satirico molto peso molto passami il termine scioccante che poi scioccante non è perché ripeto sono solo battute per me ti dico la mia l'unico limite è la legge poi dipende dal contesto perché se vedo De Sica in vacanze di Natale che picchia il filippino oppure vede un gay e gli dice quello è un conto ma se c'è Giardina che ti monta tutto un contesto ti carica la battuta eccetera e poi spara magari quella parola lì funziona perché magari il contesto lo prevede e quella parola ci sta bene per il funzionamento della battuta dipende dal tipo di comicità anche guarda l'hai descritto perfettamente ma un po' quello che dicevi sommariamente sulla qualità sulla qualità della battuta fra l'altro c'è anche un'operazione comica non scontata in cui tu anziché magari fare una battuta razzista stai facendo una battuta che deride il razzismo stesso ti faccio proprio cito una battuta che facevo nel tour precedente all'ultimo cioè una roba che può essere normalmente offensiva ma credo di riuscire a rendertela anche così immagina finisce un pezzo musicale dove c'è ballerine coriste quindi si ferma la musica e dopo c'era un pezzo di stand up comedy in realtà è recitato e dicevo adesso invece inizia un pezzo dedicato all'intelligenza un momento di elevazione culturale voi ragazze non servite potete lasciare il palco in silenzio e le ragazze prendono la testa china ma lì il pubblico si mette a ridere perché non è nella mia testa e confido nella sensibilità di chi coglie la battuta una battuta sessista è una battuta sul sessismo cioè in quel momento io sto mettendo in scena un topos del sessismo questa è un'operazione diversa effettivamente no no stiamo dicendo praticamente la stessa cosa sì sì sono pienamente d'accordo e io mi ricordo anche lo vedi da ragazzo il video in cui leggi i commenti più brutti sotto al video della canzone da grande serie F e secondo te io me lo sono sempre chiesto perché le persone sentono il bisogno sotto a dei video su youtube nei commenti di dare addosso agli omosessuali di criticare gli omosessuali bisessuali tutti insomma perché devono farlo cioè qual è il loro obiettivo cosa pensano di cambiare secondo te ma guarda devo dire che non credo che sia un problema che affligga solamente le persone con un orientamento sessuale diverso cioè la pratica di lasciare commenti verbalmente violenti mi sembra diffusa e mi sembra portata avanti veramente da ogni genere da ogni ideologia poi magari la concentrazione statistica è più da una parte che dall'altra però è un fenomeno che io vedo abbastanza diffuso diciamo credo che origini dalla da una dimensione di frustrazione pesante che stiamo sperimentando e dal fatto che siamo ancora piuttosto acerbi e impreparati al mezzo internet e al mezzo social network la tecnologia sta evolvendo ad una velocità che è unica nella storia dell'umanità e per certe cose non credo che fossimo emotivamente pronti lo inserirei in un panorama di disordine nella sua disorder nell'accettazione inglese di disorder che ti dà l'idea di casino ma anche di malattia concernente proprio l'utilizzo dei social media in cui ci finisce anche la disinformazione io posso solo auspicarmi che in un futuro non troppo lontano dalle elementari si insegna ai bambini ad approcciarsi al mezzo internet e ai social network e questo cosa va a contemplare metodologia di verifica delle fonti e nozioni di psicologia comportamentale di intelligenza emotiva guarda ti spiego sta roba per farti capire un esempio di nozione semplicissima secondo l'approccio alla psicologia americano che noi troviamo spiccissimo privo di profondità e spesso anche vero ma al tempo stesso molto rinfrancante loro ti dicono che le emozioni base sono cinque il disgusto la rabbia la paura la tristezza la felicità notiamo che su cinque solo una è positiva tragico ma ecco e fra l'altro le negative sono molto facili da suscitare far arrabbiare qualcuno online è facilissimo rattristarlo basta che tocchino in sicurezza spaventarlo sappiamo che è enormemente facile suscitare disgusto per taluni è proprio un talento ma rendere felice il prossimo richiede un impegno enorme lo si fa e lo si fa con la comicità lo si fa facendolo sentire capito lo si fa con contenuti ispirazionali ma ti devi impegnare molto di più significa che se tu ti approcci a caso su internet hai quattro chance su cinque di generare emozioni negative ecco sta roba quanto l'ho spiegata un minuto uno studente delle medie ovviamente lo può capire quindi sì manca proprio educazione al mezzo ed educazione emotiva e dato che si è parlato di argomenti abbiamo parlato di sessualità eccetera secondo me nelle scuole bisognerebbe che ci fosse più educazione sessuale a mio parere perché ce n'è veramente veramente poca ed è stordente quando c'è quindi veramente una merda non so perché si ha così paura in Italia di parlare di sesso secondo te è sempre per il discorso chiesa o c'è dell'altro la chiesa ha effettivamente gettato le basi all'attuale cultura che però adesso vive a prescindere da quello che dice la chiesa perché di nuovo per come la vedo io di quello che dice tecnicamente il papa ma molti proprio si sciacquano la wallera al di là di quei pochi veramente proprio praticanti tant'è che ad esempio quando anche le fazioni politiche che si intestano la difesa della religione cristiana quando il capo del Vaticano dice qualcosa che va in contraddizione con la loro visione politica loro lo contraddicono quindi di quel che dice il Vaticano secondo me ce ne importa relativamente è una questione proprio di cultura sessofobica profondamente assorbita è la stessa cultura poi che genera il fenomeno del revenge porn perché ovviamente se la sessualità non venisse vista come qualcosa di brutto di sporco soprattutto se legato alla donna non diventerebbe un modo per distruggerne la dignità la professionalità sarebbe uno soddisfacimento di normali istinti biologici quali effettivamente sono al netto della dimensione dell'intimità quello dell'educazione sessuale è un problema enorme enorme fra l'altro non bisogna neanche inventarsene l'OMS di cui quantomeno grazie alla pandemia adesso iniziamo a sentire parlare ha stabilito le linee guida per l'educazione sessuale che pensate un po' vengono prescritte dalle elementari oh mio Dio vogliono sensualizzare i bambini no 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 non insegna i bambini a fare sesso ma si inizia a quell'età l'educazione all'affettività al toccare il proprio corpo ha il consenso ti posso mettere una mano in testa sì no questa educazione ha il consenso parte già ovviamente non c'è erotismo quello arriverà dopo con lo sviluppo sessuale però parte già qua perché un rapporto disfunzionale con il proprio corpo con l'affettività con la fisicità è ahimè parte dall'infanzia e noi lo insegniamo lo insegniamo lasciamo che si sviluppi implicitamente perché se per praticamente tutti gli altri ambiti dell'interazione umana ci sono dei corsi per la sessualità ognuno ha imparato navigando a vista al buio crescerai anche tu al buio come se la scelta fosse tra sessualizzare l'adolescente o non sessualizzarlo eh no la scelta è tra riconoscere l'esistenza di una sessualità che si sta formando e guidarla o ignorarla nell'idea che l'ignoranza sia un valido metodo contraccettivo e che prevenga le malattie sessualmente trasmissibili quando le malattie sessualmente trasmissibili che ce ne sono ancora tante al di là dell'ancora tanto temuta HIV dove sebbene è vero che non sia guaribile e quindi spaventi per questo ma non è più assolutamente una sentenza di morte una persona seropositiva non rilevabile di fatto non può infettare nessun altro ci sono altre malattie che paradossalmente possono dare problemi con un'incidenza anche maggiore in termini di qualità di vita comunque ce ne sono tantissime e sorpresa non ti chiedono il certificato di nascita per chiederti se ti posso infettare mettiamo i preservativi nelle scuole oh mio dio no no stiamo sessualizzando i ragazzi perché notoriamente gli adolescenti non pensano al sesso e cosa faranno cosa faranno quindi gli adolescenti dove si informeranno nel porno che meraviglia e imparare che cosa sia il sesso guardando porno è come imparare a guidare guardando Fast and Furious il porno deve esistere deve esistere è un prodotto commerciale che viene messo sul mercato per i suoi fruitori e può essere l'espressione della propria sessualità c'è chi liberamente produce porno amatoriale coming out io lo preferisco lo trovo più eccitante perché si eccita l'idea che venga diffusa e tutto nel consenso reciproco deve esistere ma non gli possiamo delegare l'onere di educare alla sessualità anche perché va fatto da prima c'è stato un momento quando io ero ragazzino che si faceva educazione sessuale io a scuola l'ho fatto anche l'ho fatto abbastanza bene adesso invece è un disastro adesso è un disastro subito si grida al gender vogliono sessualizzare i bambini e chiudo la parentesi è veramente paradossale perché poi dal lato opposto la nostra società è ultra sessualizzata ultra sessualizzata in ambiti della comunicazione che di per sé non centrano con il sesso ci ho fatto caso l'ultima volta che sono andato ad Ardaland dove c'erano delle ragazzine e dei ragazzini che avevano avuto 14 anni che chiaramente andavano in palestra ed erano dei corpi sessualmente consapevoli io percepivo queste minorenni come possibili partner sessuali non dico che l'avrei fatto ma erano sessualmente consapevoli come usavano il loro corpo io dicevo ma io a 14 anni giravo con le felpe dei miei fratelli con i jeans con l'acqua in casa con il calzetto nei bianchi e le scarpe da ginnastica e quindi in realtà c'è questa sessualizzazione che si lamenta venga facendo educazione sessuale la fa già la società la fanno già questi programmi mainstream che invece no quelli vanno benissimo le varie d'URSS o i vari programmi in prima tv ma fare una sana educazione sessuale fare programmi in cui si parla di effettività di sessualità di cui ci sarebbe tanto bisogno no bisogna pensare ai bambini c'erano un tempo quando ero ragazzo io c'erano 14 15 anni su mtv anche c'erano quei programmi adesso si sembrano proprio spariti io ho fatto l'ultima edizione di loveline e comunque abbastanza preoccupante per via delle domande che la redazione riceveva ora le domande venivano selezionate e se non arrivavano domande su un tema si fintavano ovviamente con la redazione che fingeva una domanda da casa per poter parlare di un tema però di fatto le domande venivano raccolte durante la settimana e una domanda che è stata risposta data risposta una volta per non dirla a tutti gli episodi ma che continuava arrivare era da ragazzine che chiedevano posso restare incinta praticando sesso orale nel 2011 quindi vabbè ti ha servita come esperienza a capire un po' il mondo sessuale dei giovani ecco quella di loveline fighissimo molto molto ma fra l'altro è stata anche l'esperienza televisiva che proprio mi è piaciuta a livello di dinamiche no era molto giovane molto fresco ma in generale MTV quando io ero un adolescente era molto bella da seguire un po' a tutti gli orari poi c'era l'anime night figurati io sono sempre stato fissato quindi mi ha fatto alcun favore da quel punto di vista mi ha fatto conoscere tante cose è così che io ho scoperto Evangelion ad esempio sei un fan di Evangelion mi ricorda ancora da morire da morire bene e io lo scopo grazie all'anime night di MTV beh in quella in quella in quella serie c'è 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 ci sono delle tematiche di cui un po' si è parlato cioè Shinji è praticamente un complessato una persona che non riesce a comunicare con gli altri e gli altri invece lo trattano come una merda insomma è un personaggio in cui io da ragazzo mi riconobi molto devo dire la verità e poi con la crescita per fortuna abbandoni Shinji e decidi di diventare un adulto per fortuna però bella serie bella serie davvero ti ha influenzato in qualche maniera oppure sì allora io ho una serie di serie di anime giapponesi che hanno segnato un momento della mia vita e in tutti quei casi sono andato in fissa cioè io ho passato anni continuando a rivedere la serie appena finivo la riniziavo io soprattutto da bambino amavo continuare a rivedere le stesse cose c'erano dei dialoghi di puntate intere che io poi arrivavo a sapere a memoria te le dico in ordine perché sono in cin sono quattro io ora poi sono fessato serie tv da molto piccolo i Cavalieri dello Zodiaco se in serie quello ha avuto un impatto enorme su di me soprattutto per via del personaggio di Andromeda che era la prima volta che vedevo un eroe perché era un eroe lui era un guerriero anche molto potente che però io riconoscevo come simile a me da ragazzino non è che gli diagnosticassi l'omosessualità ovviamente non si diagnostica una malattia una battuta però non corrispondeva allo stereotipo del classico eroe maschile lui era fragile era vulnerabile anche dichiaratamente effemminato aveva l'armatura rosa quindi per me lui ha avuto un impatto enorme poi l'estetica mi piaceva tantissimo il secondo anime che ha avuto un impatto simile su di me è stato Sailor Moon che mi ha insegnato che non puoi combattere il male senza prima esserti messo lo smalto un tacco di 12 cm alla minigonna è stato molto molto formativo ecco mettiamola così se i cavallieri del zodiaco mi hanno fatto venire il dubbio di essere gay con Sailor Moon ho avuto la certezza dopo invece arriviamo al liceo quando grazie a MTV scopro Evangelion vado nel mio pusher di fumetti e VHS mi compro tutte le VHS e ho iniziato a vedere il loop inclusi gli ultimi due episodi per cui da ragazzino ero incazzato nero come tantissime persone ovviamente e sì 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 mi ha insegnato profondamente l'ultimo anime che è riuscito a avere quest'impatto su di me in età adulta poi ho solo seri è stato Death Note ah ok ok beh sì quello fece uno scalpore pazzesco praticamente tutti tantissime persone della generazione successiva la mia ha iniziato a guardare anime proprio per Death Note per merito slash colpa di Death Note addirittura ha fondato anche un modo di vestirsi quindi tutti come Misamisa i body le borchie il fenomeno emo insomma ha contribuito ha contribuito ecco a proposito di roba nerd ti hai fatto anche un gioco da tavola che si chiama Squillo che ha avuto un successo clamoroso ci sono state varie espansioni eccetera eccetera anche lì polemiche perché ovviamente la tua ironia l'hai ficcata anche all'interno di un gioco da tavola però tu sei un collezionista ti giochi da tavola oppure ah sì eh ok ho una collezione enorme di cosa di giochi da tavola giochi da tavolo giochi da tavolo ok di varia tipologia ma ho una collezione non riesco a mostrartela ma molto importante sì ok quindi te hai realizzato un sogno per creare il tuo gioco da collezionista e da giocatore sai che è successo al contrario è una cosa stranissima ma io quando ho creato Squillo non ero appassionato di giochi da tavola qua ci serve tantissimo da dire nel senso che conoscevo il mondo del gioco ma è proprio nato da un'intuizione artistica tipo conoscevo Magic conoscevo il gioco dei Pokémon di carte mi sono detto ma se volessi fare un gioco del genere più accessibile in termini di dinamiche più simili al party game però con l'umorismo torbido che piace a me è stato poi il mio manager a proporre di commercializzarlo piccola parentesi se tu mai volessi fare una puntata dedicata interamente al mondo del game design ti suggerisco il mio partner in affari in termini di creazione ludica che è Dario Massa sono improbabile lui ti stima tantissimo e lui ti sa tenere un discorso sul mondo del gioco veramente a profondi ok ci sto però porto anch'io un amico che si chiama Nico Nico Pertici che ha un canale Twitch e lui è fissatissimo secondo me ne verrebbe fuori una discussione interessante ragioniamoci ragioniamoci comunque ne sono poi si sono effettivamente diventato un mega appassionato ai giochi da tavolo c'è stato un momento della mia vita in cui giocavo anche sei sere a settimana avevo il mio gruppo e adesso mi dicevo vabbè adesso con la situazione attuale non si può neanche ovviamente essendoci il coprifuoco però comunque la quantità di impegni fa sì che ci possa giocare meno però un paio di volte a settimana ora mi organizzo il pomeriggio perché se no vado in crisi di trastinenza comunque devo farlo il gioco da tavolo per me è una dimensione importantissima importantissima ma collezioni anche altro oltre ai giochi carte magari oppure proprio altra roba in generale allora guarda oriento un po' la camera in quell'angolo lì dovresti vedere tutte serie tv ah ok quelli sono tutti anche se purtroppo ormai non lo faccio più con le varie piattaforme di streaming perché non li compro più gli oggetti e quello è quello è un peccato ho anche dei cofanetti edizione limitata veramente molto belli no quindi quello è l'unica collezione quindi che va avanti sono i giochi da tavola o un grosso armadio pieno più altre cose sparse per la casa ecco voglio farti un'ultima domanda sulle serie tv dato che abbiamo accennato questa cosa prima questo argomento a te non dà un po' fastidio il fatto che ormai le grandi produzioni per accontentare quasi per dare un contentino alle alla community lgbtq eccetera eccetera mettano per forza il personaggio gay il personaggio bisessuale eccetera eccetera non è una forzatura non è una roba al contrario che in realtà non è inclusivo ma è semplicemente un contentino brutto io l'ho sempre vista così poi magari mi sbaglio ok ti do la mia opinione a riguardo io ho generalmente una percezione di leggero fastidio che devo condividere come te perché ha il sapore della forzatura ha il sapore del contentino credo credo però che possa essere effettivamente un passaggio necessario nel senso che se un cambiamento culturale deve passare anche da questo una sorta di quota va bene va bene non la richiedo però non mi metterò nemmeno a combatterla artisticamente ah scusa piccolo inciso tu hai detto una cosa interamente corretta tu hai parlato di grandi produzioni infatti è vero per le grandi produzioni c'è un istituto di ricerca di cui non ricordo il nome odio dire c'è una ricerca e poi non dire quale però purtroppo vi beccate sta roba che ogni anno monitora la quantità di personaggi appartenenti a minoranze nell'ambito del cinema e nell'ambito delle serie tv credo che sia un'università forse che conduce questo studio è interessante no? vedere in tutte le produzioni e in realtà questa massiccia presenza di minoranze etniche di persone transgender omosessuali bisessuali in realtà se vai a vedere i numeri non c'è sono comunque minoranze cambia radicalmente sulle grandi produzioni è quello che hai detto tu e molti di noi guardano le grandi produzioni Netflix Prime lì effettivamente effettivamente la quota c'è lì come ti ho detto penso che possa servire la percepisco anche io a volte con fastidio e quando è che ha acuito il fastidio? quando ha proprio il sapore della quota quando è un vestito vale a dire che in alcuni casi la diversità è dirimente ai fini della scrittura connota il personaggio ossia questa sua caratteristica ha un impatto sulla psicologia del personaggio ha un impatto sulla storia altre volte tu ti rendi conto che questa caratteristica che sia il colore della pelle che sia l'orientamento sessuale tu lo puoi togliere il viaggio del personaggio non cambia proprio zero in quei casi dico ok qua me lo dovevi schiaffare dentro per quota e in quei casi posso un pochino dire ok devi farlo fallo che ti devo dire è proprio quello che mi dà fastidio quando il personaggio è ben scritto e soprattutto magari si parla di quelle tematiche o semplicemente è ovvio che ce lo devi mettere ma scherzi però se me lo devi mettere semplicemente perché oh così ci abbiamo messo anche l'omosessuale ma che cazzata è quello fa incazzare basta perché non ha senso diventa privo di significato e svilisci quelle tematiche per cui si combatte in realtà secondo me però è una mia idea ovviamente Immanuel grazie a bestia di essere venuto qua sei stato fantastico la chat ti ha adorato e veramente è stata una bellissima chiacchiera Vario mi hai fatto un regalo meraviglioso e che bello grazie grazie alle tantissime persone che ci hanno seguiti che meraviglia eh siamo quasi 8000 sì 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 quindi si sono aumentati straordinario straordinario vabbè effettivamente abbiamo parlato di tematiche molto interessanti poi te sei bravissimo veramente sei sei una macchina da guerra forse è stata proprio una bella una bella scelta venire su Twitch come ti stai trovando? bene è un esperimento che non so neanche se durerà chiaramente come tutti gli artisti che lavorano con concerti spettacoli dal vivo spoiler gli artisti musicali ormai guadagnano dai concerti non certo degli ascolti in streaming chiaramente mi trovo con un fermo di due anni ormai quindi è stato anche un po' un passaggio forzato lo dico in cui mi sono trovato a valutare alternative del tipo ma come continua il rapporto con il pubblico e da tempo mi dicevano vai su Twitch vai su Twitch mi sono detto andiamo su Twitch e per ora è una bella esperienza proprio dal punto di vista umano della qualità dell'interazione che altri social non mi darebbero quindi ora non so se questa esperienza proseguirà dopo la fine della pandemia però dato che per ora è molto interessante perché no perché no per ora ho questa forma due volte a settimana ed è bello hai fatto bene secondo me sei fatto per Twitch quindi vediamo ti auguro il meglio anche su questa piattaforma ti abbraccio forte buona serata grazie di essere stato con noi e ci sentiamo presto ciao 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 ciao